La solidarietà non va in vacanza, passi caldi per tutti nel pieno rispetto delle tradizioni e usanze considerata l'utenza multietnica dei centri diurni di Bari. Nei giorni poi di Pasqua e Pasquetta, Area 51 ha pensato a un menù proprio per tutti, zero maiale ma tanta pasta e verdure. Sono circa 100 gli utenti che ad ogni sessione, tra pranzo e cena di Pasqua e Pasquetta, potranno usufruire di un servizio aperto in realtà tutto l'anno. Come ogni anno noi siamo qui pronti ad accogliere le persone più bisognose. Offriremo loro un pranzo, il cosiddetto benedetto, però in una variante fatta apposta anche per le persone musulmane, quindi ricotta al posto dei vari salumi, utilizziamo fesa di tacchino, uova e arance. Per primo abbiamo caserecce a ragù e per secondo carne alal con contorno, frutta e dolce. Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione, per quanto riguarda invece la colazione è garantita nei due giorni dalle 9 alle 10.30. Area 51 anche in queste giornate di festa si trasforma in un posto sicuro e accogliente per tutti senza tetto, che scelgono di trascorrere qualche ora al caldo o in compagnia degli operatori. Orientativamente i nostri numeri sono sempre molto alti, durante le festività ovviamente c'è molta più gente che viene qui a passare anche il proprio tempo in compagnia. Ad Area 51, alla distribuzione di pasti, si affiancheranno alcune iniziative pensate per favorire la socialità. A Pasqua Movie Time con la visione di film, a Pasquetta invece in programma una merenda con musica e giochi.